Arriva un segnale di distensione per una polemica che consideriamo inutile e sterile, soprattutto perché favorita più da incomprensioni tra le parti che da vere e profonde distanze. L'oggetto della disputa è l'ospedale Vietri di Larino, difeso strenuamente dal corrispondente comitato civico che si batte nel segno del ruolo centrale per la tutela della salute di tanta parte di molisani, quelli che vivono nella vasta area frentana. Identica mossa, difesa e portata avanti da Natalino Stocco, un imprenditore di Tufara, noto per essere stato il promotore dell'accordo di partenariato per valorizzare e promuovere l'olio d'oliva dell'area del fortore, che in seguito all'ottima cura ricevuta nel reparto oculistico del Vietri si è votato alla causa della lotta a salvaguardia del medesimo presidio ospedaliero. Qualche parola mal pronunciata e dunque mal interpretata ha favorito la polemica. Oggi giunge una nota distensiva da parte di Natalino Stocco, che sente l'esigenza di precisare. Devo dire al comitato civico del Frentano che non ho niente con loro, anzi di rispetto per quello che fanno. Ho dovuto dare soltanto un input delle varie criticità che ci sono in quei ospedali, da tenere presente che c'è ancora la camera iperbarica che è ancora stata messa in funzione e quella è una di quelle che loro dovrebbero battagliare, essendo un comitato civico, essendo un comitato del territorio. E poi dopo io ho fatto l'altra battaglia che sono stato anche operato lì all'alino al Vietri dal dottor Giancosimo Avoglio e la sua equipe che mi ha salvato gli occhi. E per quello io ho preso una lancia in favore del Vietri con l'oculistica per salvaguardarla, perché venga lì un ospedale universitario oculistico di alta frequenza, essendo anche polo regionale di oculistica. Questo è il mio messaggio che voglio mandare al comitato civico. Io con loro non sono niente, sono sempre un cittadino come loro che mi do da fare per una sanità giusta ed equa.